Pane al pane, 026884230, panealpane at radiolombardia.it Buonasera, eccoci di nuovo, stavo aggiornando i miei ospiti con le ultime news. L'Italia spende i propri soldi rispettando i vincoli dell'Unione Europea, quindi c'è uno spostamento anche di Renzi rispetto a queste regole che l'Unione Europea ha dettato. Ci sono tanti altri punti su cui possiamo perlomeno commentare e discutere. Non si taseranno i botte ma si aumenterà la tassa sulle rendite per recuperare dei soldini che dovrebbero andare al taglio per le aziende di una IRAP di un meno 10%. Tante notizie poi ve le riassumo comunque per come stanno uscendo e per come stanno arrivando. Ma prima diamo il benvenuto a Eugenio Casalino, Movimento 5 Stelle, consigliere regionale. Buonasera. Buonasera a tutti. E grazie anche a Claudio Pedrazzini, sempre Regione Lombardia, Forza Italia. Buonasera a tutti i radioscoltatori. Grazie anche da parte mia. Allora, Daniele Bonecchia, GL News, per l'appuntamento delle 19. Poi torniamo a parlare. Intanto Daniela ci siamo, tra poco risponderemo anche a lei e poi torniamo a commentare quello che sta succedendo in questo mercoledì da Leoni, tanto atteso. Qualcuno ha detto tante parole però ancora questi non possono essere i fatti. Vediamo insomma. Prego Daniele, buonasera. Buonasera a te e ai tuoi ospiti. Stai seguendo le dichiarazioni che arrivano da Roma? Stai seguendo la conferenza stampa di Renzi. Io la sto facendo indifferita con i miei ascoltatori, prego. Sì, mi pare che lui abbia scelto di premiare, diciamo così, di dare un segnale forte ai lavoratori dipendenti con questi 10 miliardi che dovrebbero arrivare ai lavoratori che guadagnano fino a 1.500 euro netti. Per cui interessa anche una fascia che non è proprio ultrapopolare, insomma un cento medio che insomma che sta in piedi. Per cui dovrebbe essere un'immissione di risorse direi sensibile che si tocca con mano. E dall'altra parte mi pare che ci sia un segnale alle piccole imprese, le piccole e medie imprese. Con l'ira. Si l'ira da un lato ma anche lo sgravio dei costi per l'energia del 10%. Per cui insomma un piccolo segnale che probabilmente considereranno mi soddisfacente perché le imprese hanno bisogno. Oggi si è detto più volte che dal fronte ai lavoratori e imprese alla fine nel dividersi probabilmente nessuno sarà soddisfatto. Però bisogna anche se solo tutto ciò avvenisse. Però mi pare che lui ha fatto una scelta nel senso dei lavoratori con una linea di tendenza che andrà più in là nel tempo a favore delle imprese. Vediamo cosa succede anche solo se tutto ciò prenderà forma. Qui in casa nostra tante piccole notizie che riguardano anche vertenze locali, l'impegno sempre della regione verso le iniziative che interessano, che ruotano attorno ad Expo. Però ha fatto un po' da padrona questa polemica che avranno visto le persone che seguono un pochino la politica. Questa polemica sarà D'Alfonso che era assessore al commercio, però diciamo una sorta di guru arancione della giunta milanese e l'assessore Maiorino che era assessore all'Uelfra all'assistenza. Polemica piuttosto dura, così come era successo in passato. D'Alfonso aveva già criticato prima il PD, poi insomma a me era stato soggetto attivo di tante polemiche. Anche in questo caso poi è intervenuto il sindaco che ha smorzato un po' i toni. Però c'è una sorta di insoddisfazione che pervade un pochino questa amministrazione. Vedremo, perché il tema dell'Uelfra è un tema sensibile perché riguarda il mondo del volontariato, ma soprattutto tocca da vicino le persone che più hanno bisogno. Per cui non è un tema secondario e capisco e pare di poter leggere anche un po' oltre la polemica le persone che hanno parlato che c'è in realtà una certa apprensione su come vengono gestite queste risorse. Giustamente perché le risorse sono sempre poche. Vedremo nei prossimi giorni. Ti ringrazio, grazie a Daniele Bonecchi. Rientriamo in diretta con Casalino, Movimento 5 Stelle e Pedrazzini, entrambi in Regione Lombardia e volevo dire a Daniela che abbiamo, se lei magari proviamo anche noi a richiamarla dalla regia, comunque avendo il suo numero, se lei ce lo autorizza perché adesso Valentina la contatterà, lo daremo ai nostri consiglieri perché quel discorso che lei ha fatto, cioè quella domanda che lei ha fatto sui contributi di Regione Lombardia legata alla pratica ISE che lei stava facendo per la mamma, mi sembra, è un po' vaga, quindi le parleranno direttamente andando nello specifico della sua esigenza. Ecco fatto anche la risposta a Daniela e partiamo da queste notizie che sono arrivate, qualcuna l'ha commentata e l'ha ricordata anche Daniele, l'apertura della conferenza stampa di Renzi è stata 100 giorni e cambieremo di cambiamenti importanti nella pubblica amministrazione, nel fisco e nella giustizia. Ha cominciato a dare dei dati per quanto riguarda anche la pubblica amministrazione perché ha detto saranno sbloccati entro luglio, per cui molto prima di quanto probabilmente, se tutto è vero, ci si aspettasse, il blocco totale dei debiti della pubblica amministrazione. Poi abbiamo detto appunto l'IRAP, questo aumento di 1.000 euro netti all'anno in più a cui guadagna meno di 1.500 euro, 1,7 miliardi sul piano casa, per il dissesto idrologico, non sto dando i numeri, non mi guardi così, Casalino, 1,5 miliardi e 3,5 miliardi per le scuole, un sacco di roba insomma. Cosa ne pensa? Cosa ne pensa Casalino? Allora, come dire, se fosse tutto vero fino in fondo, nel senso fino all'attuazione concreta, beh, si tratta di misure che hanno un titolo del tutto accattivante, però io vorrei ricordare che soprattutto negli ultimi anni abbiamo sentito spesso una politica di tanti annunci, credo che nessun governo sia esente da questa cosa, e pochi fatti concreti, l'ultimo esempio era proprio il famoso decreto d'affare di Letta, i nostri colleghi in Parlamento hanno testimoniato che di fare ce n'era ben poco. Io dico che Renzi, io ho dato anche pubblicamente il mio giudizio su Renzi, la mia previsione è che, adesso qui c'è il collega di Forza Italia, forse mi piacerà questo giudizio, che Renzi ci farà presto dimenticare Silvio Berlusconi come capacità di fare promesse al popolo italiano, poi disattese. E cosa sto dicendo? Quindi che andiamo a vedere quello che però uscirà di concreto dal Parlamento, anche perché poi spesso la politica ci ha abituato a questo, appunto grandi titoli, grandi annunci, poi giustamente perché il Parlamento ha un ruolo centrale nella nostra Repubblica, il Parlamento dice la sua, lotta fra correnti, fa diverse esigenze e viene fuori qualcosa di molto diverso da quelle che era l'intenzione del Governo. Io dico quindi aspettiamo i fatti, poi l'ultimo fatto che citerei in realtà è che dietro grandi titoli, grandi annunci spesso si nascondono poi provvedimenti, anche abbastanza difficili da decifrare nell'articolato che arriva in Parlamento, in cui spesso in mezzo a provvedimenti buoni ci sono anche tante schifezze, e noi nel Movimento 5 Stelle diciamo certo, noi siamo disposti a votare i provvedimenti che riteniamo utili per tutti, ma non se tu mi metti un titolo accattivante, due provvedimenti buoni e cinque schifezze. Noi non voteremo appunto provvedimenti del genere, è stata storia questa, no? Sicuramente è stata storia, perché potremmo citare tanti esempi, quindi io voglio, io non sono in Parlamento, come Movimento 5 Stelle la posizione è sempre quella, vogliamo vedere i fatti, in questo caso cosa arriverà in Parlamento e cosa uscirà dal Parlamento per capire cosa votare. Questa è la voce di Eugenio Casalino, Movimento 5 Stelle, Claudio Predazzini, Forza Italia, a maggio 10 miliardi per 10 milioni di italiani, questi 1000 euro su 1500 euro netti, non tasserò i bot, ma le rendite finanziarie, quindi la tassa sarà spostata, la tassazione, insomma il recupero di questi soldi non sui bot, ma sulle rendite finanziarie. Prego, non su questo, ma in generale su quello che ho riassunto. No, Renzi in queste ore sta dando prova di un intervento coraggioso, perché va dato atto che in questo Consiglio dei Ministri, dove ha annunciato delle misure importanti per l'economia, per le buste paga, per un minimo di reazione alla situazione di stallo dell'economia italiana, sta lanciando alcune proposte che decisamente dovranno essere analizzate con grande attenzione. È inutile dover fare adesso, esprimersi con delle valutazioni, con dei giudizi. Gli va dato atto che con coraggio sta promuovendo qualcosa di diverso rispetto ai precedenti incontri del Consiglio dei Ministri, dove anche nell'esperienza di chi lo ha preceduto, del Premier Letta, effettivamente sono misure che stanno andando un po' controcorrente. Stanno andando controcorrente rispetto a... Per attività anche dei tempi brevi, per cui voglio dire, sarà lì da vedere, non c'è bisogno di aspettare come in precedenza, gli anni, mesi. No, no, infatti, quindi sta andando controcorrente anche alle indicazioni che l'Europa sta dando all'Italia, per cui questo va riconosciuto e noi, se sono questi gli intendimenti, come Forza Italia sosterremo questa posizione. Certo è che va comunque fatta una valutazione prudenziale... 3-0 Eccoci, eccoci in diretta. Allora, prima un collegamento telefonico e poi commentiamo anche l'intervento di Grazia. Allora, innanzitutto, grazie di essere con noi al telefono a Onorio Rosati, PD, consigliere regionale. Noi abbiamo ribattute, partiamo da un post che ci riporta una notizia che ieri in chiusura avevamo dato. Unicredit annuncia un piano di 8.500 esuberi. In Italia, 5.700. Il titolo, come reazione, vola in borsa a più 6,1. E lei commenta, Rosati, possiamo ancora tollerare tutto questo? Io riparto da questo suo commento per darle la parola e poi per ritornare a parlare di lavoro anche con i miei ospiti. Prego, Rosati. Buonasera. Buonasera. È una cosa evidente che come tal è andata segnalata. Certo. Il fatto che ci siano gli esuberi. Io posso comprendere un piano di organizzazione aziendale per capire bene queste banche effettivamente in questi anni che ne si erano fatto. Perché in questo momento c'è l'esigenza di separare le banche commerciali da progettari. Hanno acquistato il denaro a tassi di interesse bassissimo dalla Banca Centrale Europea. Poi invece di destinare all'economia reale hanno acquistato tutto l'edito pubblico. Per cui stanno facendo contatto di tutto. Non so quanto aiutano l'economia. Poi presentano, dopo aver inaugurato il palazzo di unicredit a Milano, con tanto dettaglio del Natra, aggiungo a pronunciare un piano industriale che prevede da qui al 2018 8.500. Questi numeri. Certo. Il fatto che poi la borsa preghi il piano industriale evidentemente, e quindi sia anche il segnale che questa è la direzione giusta, è un elemento sul quale io penso che il Governo e il Parlamento qualche riflessione dovrebbero farla. Anche perché penso che ci devono essere qualche regola in più rispetto a quelle che non ci sono nel nostro Paese per evitare situazioni di questo tipo. La ringrazio e magari torneremo a parlarne in studio insieme. Grazie, grazie e buon lavoro. Allora, superare il bicameralismo o smetto con la politica? Mi sa che c'è proprio questi proclami perché uno può dire tante cose però devo dire che ha un certo peso come diceva Casalino. Allora, rispondiamo a Grazia e poi volevo tornare su questi temi insieme a voi. Torniamo parlando con Casalino. Prego. Signora Grazia, non so se hai ascoltato la trasmissione che si è aperta da pochi minuti. Secondo me, e secondo Casalino l'ha confusa con Movimento 5 Stelle. No, da non confondere con Movimento 5 Stelle. Però forse Grazia ci segue in TV per cui anche lì è dubito. Arriva tardi forse. No, no, è che arriva l'immagine e non può confondere le voci. Io ripeto perché va data onestamente una valutazione di chiunque stia operando in politica quindi anche se è un avversario politico Renzi oggi, sebbene non sia stato eletto è l'unica cosa che io gli contesto mentre Berlusconi è sempre stato eletto legittimato dal voto popolare Renzi sta facendo un'iniziativa in questo ultimo Consiglio dei Ministri dove sta portando delle iniziative che valuteremo con calma nei prossimi giorni per verificarne gli effetti Mica tanto calma perché lui in cento giorni va tutto e quindi conviene muovervi No, no, ma noi verifichiamo con calma perché poi spesso le iniziative che hanno un'origine parlamentare si traducono anche in problemi seri che poi dopo vanno recuperati vedi la riforma Fornero sulle pensioni con quello che ha causato agli esodati e così via però ci sembra che le iniziative che stia proponendo Renzi in questo momento sono iniziative coraggiose che però devono trovare ovviamente una coerenza con tutti i livelli istituzionali perché come abbiamo accennato prima mettere in tasca degli italiani 80 euro in più e tirarli via attraverso i comuni che come Pisapia ha dichiarato perché di Pisapia ha detto chiaramente che lui ha intenzione di applicare l'aliquota massima della Tasi a chi se la può permettere e quindi voglio vedere come faccia Lui ha parlato anche di tagliare la spesa pubblica ha parlato di recuperare attraverso la tassazione delle rendite I tagliare la spesa pubblica sono necessari perché è una battaglia dove ci stiamo immaginando tutti e dove ovviamente dobbiamo dare delle risposte concrete velocemente dalle pensioni alte, dalle sedi RAI ci auguriamo che riesca davvero a fare perché noi siamo davvero molto motivati a credere che i tagli vadano fatti principalmente a Roma nei ministeri dove c'è un'eccessiva burocrazia dove le leggi si ingarbugliano e dove escono i problemi dove davvero c'è una situazione ingovernabile perché continuare tagli del Senato superare il bicameralismo continuare a pensare di fare tagli lineari alle istituzioni minori sul territorio credo che sia la strada sbagliata per cui credo che Renzi con coraggio sta affrontando una fase decisamente difficile diamogli atto diamogli tempo anche di operare noi siamo a valutare i provvedimenti buoni e a sostenerli e a condividerli grazie Pedrazzini volevo sentire Casalino su questo altri proclami importanti dei tagli che possono essere interessante sulla spesa pubblica sulle sedi RAI sulle pensioni alte sulla polizia ma non l'abbiamo capita prima perché pare si mettano la benzina per noi di taglio della spesa pubblica credo che se ne parli forse da decenni da tanti anni appunto direi che ultimamente ci ha provato in maniera più seria in ultimi tre anni Monti insomma partito dal governo Monti in avanti abbiamo avuto tra quattro commissari per il taglio della spesa pubblica quindi usiamo il termine spending review l'ultimo appunto è Cottarelli ma il problema è politico cioè non nascondiamoci dire questa cosa partito della spesa pubblica è trasversale noi del Movimento 5 Stelle parliamo di partito unico cioè cosa diciamo non c'è differenza di bandiera i principali partiti politici tra cui per esempio anche Forza Italia l'ex PDL in questo sono molto simili al PD ossia sì siamo bravi a parlare ma poi quando dobbiamo tagliare la spesa pubblica che spesso e volentieri non sempre significano anche clientele o comunque interessi che si vanno a toccare e che quindi determinano inevitabilmente un problema sui consensi della politica tutti alla fine i fatti non li portano a conclusione il Movimento 5 Stelle è fatto diverso se proposte di taglio la spesa pubblica in Parlamento vorrei citare per esempio quello sulle spese militari contestabili o meno o tante altre cose potremmo parlare di tanti altri provvedimenti che ha proposto il Movimento 5 Stelle in Parlamento anche in questa direzione sono stati tutti bocciati e quello che dicevo prima sono tutti bravi nel calcare la scena politica in quello che Silvio Berlusconi chiamava vent'anni fa il teatrino della politica lui è stato uno dei principali protagonisti negli ultimi vent'anni ma i fatti sono quelli che conosciamo la spesa pubblica è aumentata il debito pubblico aumentato nessuno è riuscito a incidere su questo per un motivo molto semplice perché i partiti politici tradizionali basano il loro consenso principalmente sulla spesa pubblica quindi è un binomio è inscindibile si parla da una parte di abbassare le tasse quindi la spesa pubblica e dall'altra però non si riesce ad avere la forza politica che non hanno una coerenza perché non si può fare di tutto un erbo un fascio allora sono partiti che basano la loro proposta sulla spesa pubblica partiti che come Forza Italia governano in Regione Lombardia sulla spesa pubblica proprio non non insistono a mantenerla come la priorità anzi a livello nazionale stiamo dando comunque dei contributi importanti che dovrebbero essere maggiori e su quello siamo d'accordo ma a livello regionale noi stiamo dando un esempio e anche a livello locale nei comuni dove abbiamo amministrato nelle province dove abbiamo amministrato stiamo dando un esempio che Regione Lombardia è davvero la realtà che forse dovrebbe essere seguita ad esempio perché qui abbiamo fatto i tagli maggiori siamo riusciti a ottimizzare anche le risorse abbiamo saputo proporre anche dei modelli di spesa intelligenti come la politica dei costi standard se ne è parlato per decenni e finalmente oggi dalla Lombardia arriva un sistema che viene preso in considerazione dal governo sulla sanità nazionale sulle politiche ci arriviamo tra un attimo chiediamo anche che l'amministrazione da questo punto di vista ci chiarisca qual è la sua posizione che il sindaco chiarisca anche cosa che mi sembra che abbia fatto cosa che mi sembra che abbia fatto e davvero evitiamo in questa fase di mettere a difficoltà persone che lo sono già di loro grazie 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 a Graziano Gorla segretario generale della CGL Milano abbiamo dato ampio ampio ampia voce a questa notizia sia prima nella nostro GR poi nei commenti di Daniele Bonecchia adesso con la voce di Gorla Casalino per quanto riguarda invece poi torniamo tra un attimo ancora su queste promesse vedremo insomma invece a livello regionale state lavorando in maniera diversa come sta andando insomma ma stiamo parlando sempre di politiche sociali no 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 come voi politiche sociali ma anche tagli la spesa pubblica tagli allora interventi su come dicevi rispondevamo a Daniela anche sui contributi adesso Casalino esce dal Movimento 5 Stelle e viene no 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 si fa cacciare da grillo e si unisce la maggioranza non è questione di uscire dalla maggioranza è questione sì no certo nel senso che io per esempio ho anche detto quando si parlava dei riordini di autonomia locali che indubbiamente c'è un problema come dire di distribuzione della spesa pubblica prima quando eravamo appunto nell'intervallo appunto dicevo con Pedrazzini sì innanzitutto parlavamo di spesa pubblica a livello centrale e poi anche questo è un dato di fatto c'è una distribuzione territoriale della spesa pubblica su molte voci il numero di dipendenti pubblici costi standard delle forniture su cui potremmo parlare a lungo che è oggettivamente penalizzante il famoso patto di stabilità o di stupidità degli enti locali blocca 8 miliardi e mezzo di euro nelle casse degli enti locali lombardi e questo non avviene altrove abbiamo detto io stavo dicendo a Pedrazzini salvo che abbia informazioni sbagliate in Parlamento gli unici che si sono posti al decreto Salva Roma sono stati Lega e Movimento 5 Stelle per un principio semplice non puoi andare a premiare degli enti locali che non sono virtuosi il comune di Milano ha un numero di dipendenti rispetto ai residenti così come la regione Lombardia assolutamente virtuoso rispetto a qualsiasi altra realtà d'Italia quindi lei dice se ce la fa una regione come la Lombardia perché no? allora questi sono dati come dire incontrovertibili qualcuno ha fatto una stima che se come dire tutta la spesa pubblica fosse impostata con i parametri che abbiamo in regione Lombardia il bilancio pubblico la spesa pubblica sarebbe inferiore globale ricordo più di 800 miliardi sarebbe inferiore di 30-40 miliardi che non è poco sono il 5% beh partiamo da questo ma io ritengo come stavo dicendo appunto a Pedrazzini poco fa che chi ha governato finora centrosinistra centrodestra abbia un pezzo al nord ma un pezzo anche al centro-sud discutibile o meno con le loro clientele no? allora se posso concludere anche con Pedrazzini dicevamo come si può intervenire certo che nessuno vuole avere una mannaia e mettere le persone in mezzo alla strada se parliamo di dipendenti pubblici mi ricordo un tentativo del governo Monti che diceva una cosa semplice ma vogliamo stabilire un parametro appunto ad esempio di numero di dipendenti pubblici per residenti venne fatto uno studio i bondi e tiravano fuori dei numeri precisi manco a dirlo per esempio un comune di Milano era assolutamente già in linea non doveva mandare a casa nessuno e magari c'è il problema di mandare a casa no ma questa operazione se la cominciavamo 10 anni fa ecco 20 anni fa bastava dire una cosa molto semplice guardi molto semplice dire signori gli enti locali ad esempio un esempio di spesa pubblica che non rientrano in questo parametro non assumono più nessuno nessuno vuole licenziare ma non puoi più assumere nessuno ma non aumentare certo allora mentre chi lo può fare continua ad assumere ma perché non è stato fatto questo? per una precisa politica clientelare non conveniva nessuno nessuno voleva e queste cose sono state sostenute in Parlamento dai partiti che ci hanno governato finora tutto questo deve essere prima o poi raddrizzato va detta questa verità non licenziamo nessuno ma almeno smettiamo di continuare ad assumere dove ripeto siamo fuori da quella linea da quei parametri che sono quelli virtuosi dove peraltro prova è che si può lavorare ma nessuno ha fatto questo guardi Monti ci ha provato sono usciti articoli sul giornale se ne è parlato sono state scritte anche delle leggi guardi se vuole entriamo in un tecnicismo ma non sono mai state applicate quindi è gravissimo quindi non c'è da fare c'è da decidere come so in Italia si fanno tante leggi non bisogna fare leggi bisogna applicarle applicarle perché le leggi ci sono queste cose sono state dette sono state scritte anche in provvedimenti ma poi si lascia all'autonomia degli enti locali applicarli vabbè insomma e qui mi fermo mi faccia sentire Davide questa era la voce di Eugenio Casalino Movimento 5 Stelle Regione Lombardia tra poco risentiamo Pedrazzini Forza Italia sempre Regione Lombardia Davide a lei la voce buonasera buonasera sono molto contento diciamo della rappresentanza nel Movimento 5 Stelle stasera e coincide con una mia telefonata avevo solo tre domande dice come una canzone di Ligabue dice ho tre domande per te la prima visto che Regione Lombardia è una regione virtuosa visto anche che a scandali però non è seconda a nessuno allora io mi dico questo adesso il governo Renzi ha presentato una manovra diciamo pare che il lavoratore dipendente che non percepisca più di 25 mila euro di dipendio netto a quanto ho capito voi chiedo per conferma anche a voi così è stato detto 1.500 al mese netti si si parlava di 25 mila euro annui si parlava comunque vabbè allora perché Regione Lombardia visto che abbiamo risparmiato visto che ci sono stati dei tagli l'addizionale regionale in Bustafaga è sempre la stessa allora per non fare in modo che quello che ha detto prima il suo ospite si riduca ad essere una chiacchera perché solo chiacchera in questo momento il taglio perché su di me non ha nessun influsso io per fare un esame del sangue spendo 60 euro allora dico per fare in modo che perché per il momento quello che ha detto il suo ospite è una chiacchera ora vero è che uno stato che ha 800 miliardi di spesa non può permettersi di avere questi squilibri all'interno tra i rapporti interregionali vediamo la regione Sicilia per esempio no certo certamente la regione Lombardia è virtuosa ma in questo senso allora se così è c'è un addizionale regionale che io pago no è chiarissimo fino a qui il ragionamento io la sto seguendo quali sono le tre domande non vorrei i tagli della regione Lombardia su di me non hanno nessun influsso e sulla gente come me chiaro ti saluto grazie non abbiamo contato le tre Davide ma è stato molto chiaro prego si si le tre domande che stavamo attendendo no ma è chiaro lui ha fatto un ragionamento forse era una battuta delle tre domande per portare un esempio anche vissuto il suo per cui prego allora c'è un principio che è questo nel senso che bisogna dare atto che la regione Lombardia sta facendo una politica anche di riduzione dei costi soprattutto in base a chi ha dei redditi bassi e a chi è più in difficoltà che non può supportare ovviamente determinate spese soprattutto in ambito anche sanitario e allora la politica dei costi standard è una politica che si applica non solo nella sanità non solo per quanto costa la siringa in Lombardia e quanto costa in Sicilia ma si applica anche in base alla densità demografica alla presenza del pil regionale al numero di dipendenti che dovrebbero essere legati a ciascuna istituzione proprio considerando questi fattori dopodiché io ricordo che la regione Lombardia l'ultima manovra che ha fatto andando a risparmiare quasi 50 milioni di euro in sanità le ha dedicati ad abbattere il costo dei ticket soprattutto per gli anziani che hanno superiore 65 anni e sotto i 18 mila euro di reddito sono interventi limitati ci rendiamo conto ma sono interventi significativi per le risorse che noi abbiamo a disposizione nonostante i tagli continui e soprattutto curandoci di intervenire laddove abbiamo delle fasce deboli che devono essere tutelate qualora noi fossimo nella disponibilità di procedere ovviamente con risorse maggiori saremo i primi ad andare a toccare anche diverse leve come l'IRPEF non dobbiamo trascurare tutto quello che la regione Lombardia sta facendo anche in campo economico cioè cercando di anticipare quello che oggi fa Renzi dicendo che entro luglio devono essere pagati circa 60 miliardi per i debiti della pubblica amministrazione ebbene la regione Lombardia con credito in casa che è stata una delle prime misure che abbiamo approvato in consiglio attraverso la giunta aveva messo a disposizione un miliardo di euro proprio per anticipare i debiti della pubblica amministrazione li anticipa a regione Lombardia mette sul mercato della liquidità le dà alle imprese prendendosi a carico il loro credito nei confronti della pubblica amministrazione e cerca ovviamente di stare vicino a quelle imprese che hanno una situazione strana perché il lavoro ce l'hanno ma sono in difficoltà perché non gli arrivano i pagamenti soprattutto la pubblica amministrazione quindi sono tante iniziative che non sono chiacchiere ma sono fatti all'interno della camera per cui dopo nove anni almeno il primo passaggio è stato fatto questo credo che sia già un segnale positivo adesso sono state messe in atto e sono state fatte altre proposte e un po' per volta si comincia a mettere in atto anche tutto il resto perché accanto alle riforme istituzionali servono forse anche più urgentemente delle misure degli interventi economici quindi ottimista e speranzoso partendo dai dati di fatto di cui stiamo anche commentando l'onorevole Cova grazie buon lavoro onorevole l'aspettiamo in studio buonasera grazie e allora si 32 grafici quindi tra i twitter e questa conferenza forse la prima con le slide in questi termini dopo un consiglio dei ministri insomma la comunicazione la muove bene diciamo così vediamo cosa succederà a Casalino rispetto al discorso che si faceva un attimo prima della pubblicità ma anche rispetto a questo italico che per il PD è un passaggio di importante per tutti gli italiani magari parto da quest'ultimo elemento lo immaginavo che le piaceva avevo sentito questa energia sulla comunicazione è inutile come dire infierire nel senso che ripeto Renzi batterà in questa capacità istrionica di comunicare solo che non basta comunicare ma anche fare sull'italicum credo che il giudizio sia molto semplice una legge elettorale senza preferenze se le mie informazioni sono corrette e aggiornate che non prevede le preferenze con la promessa solenne di Renzi di avere le preferenze prima che andasse al governo loro fanno le primarie sì no va bene poi possiamo raccontare come le abbiamo fatte loro e come le abbiamo fatte noi poi non tutela la parità di genere per esempio atto a questi mini collegi insomma non è applicata al senato quindi io la ritengo tra l'altro poi secondo rilevazioni proiezioni fatte penalizzerebbe per esempio guarda caso una forza politica che si chiama Movimento 5 Stelle perché? beh sono state fatte le proiezioni su questi 120 collegi ah per la soglia pensavo alla soglia dico no 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 come può risultare la cosa ma non solo per questo ovviamente sicuramente può essere definita la peggiore legge elettorale che l'Italia ha mai avuto finora anche a partire dalla legge acerbo di 90 anni fa no ai tempi del fascismo e potremmo spiegare anche il perché quindi questo è il giudizio sulla legge italicum sull'abolizione del senato vedremo io voglio proprio vedere i senatori che votano la loro abolizione lo voglio proprio vedere eliminazione allora invece arriviamo invece al discorso di prima del radioascoltatore appunto sulla cosa diceva sono tutte chiacchiere mi sembrava che la sua critica fosse sì però io non capisco perché poi noi in regione Lombardia non capisco questa virtuosità nel momento in cui ancora abbiamo un'Irape elevata abbiamo un'edizionale IRPEF parlava anche giustamente di tiche sanitarie perché io ricorderei che in regione Lombardia abbiamo i tiche sanitarie più alti che mi risulta che abbiamo in Italia beh io partirei da un dato anche qui è un dato di fatto ebbè proprio quello che dicevo prima no di quello che succede in Italia determina questa situazione ad esempio in Lombardia ossia la Lombardia al di là di altri problemi scandali certamente io non vado a difendere una classe politica che ha chiuso una legislatura in maniera anticipata per le note vicende che sono successe appunto fino a un anno fa io stavo parlando di numeri di questa regione ma non solo dell'ente regione di cui noi siamo consiglieri io e il consigliere Pedrazzini stavo parlando della regione Lombardia come enti locali come tutta una serie di sistemi che non dipendono solo dall'ente regione ma per tornare all'ente regione stavo dicendo l'ente regione riceve meno soldi credo la cifra più bassa anche lì per residente perché io sono un ingegnere sono fissato con i numeri io ragiono su quelli più che sulle opinioni politiche è un dato di fatto non è che se lo dice la Lega non è vero la spesa pubblica per residente della regione Lombardia è tra le più basse d'Italia questo cosa significa? significa che anche un ente regione per far quadrare i suoi conti deve comunque chiedere diciamo dei soldi ai cittadini detto questo ovviamente noi per esempio io sui ticket sanitari ho avuto delle interlocuzioni con alcune persone che per esempio chiedono cittadini attivisti chiedono magari un intervento se ti ho fatto quello sugli anziani per esempio per abbassare i ticket per chi oggi per esempio non ha un lavoro perché sostanzialmente c'è un certo tipo di esenzione oggi per alcune categorie di persone che sono in difficoltà lavorativa in disoccupazione di casa integrazione ma noi per esempio potremmo chiedere di più anche su questo fronte cioè abbassare i ticket per chi oggi è in difficoltà lavorativa quindi può essere un momento particolare però una tappa di vita però in questa tappa deve essere garantita la salute questo mi sembra che sia importante anche perché tra i trend in basso sul curarsi ci sia anche questo su quel fronte credo che si possa intervenire assolutamente sì un'ultimissima ora per quanto riguarda lo ricordiamo quella che è stata definita la clinica della morte sull'orrori alla clinica a Santa Rita i PM hanno chiesto l'herbcastolo questo è uscito poco fa per brega a Massone con l'accusa che era l'ex primario in carico appunto per omicidio volontario la morte di quattro persone era stata causata oltre a tutta una serie di altri interventi che non erano necessari questa è un'ultima assa Pedrazzini siamo d'accordo che c'è ancora molto da fare siamo qui al lavoro proprio per questo quindi anche a Regione i cittadini ci hanno dato fiducia anche di fronte a una situazione difficile che ha portato a degli scandali importanti ma proprio perché comunque c'era la volontà netta di tirare una riga e di separare e di cambiare il passo rispetto al passato anche nella sanità c'è molto da fare e si sta facendo già un buon lavoro direi proprio per cambiare la riforma sanitaria va aggiornata c'è un differente approccio che va garantito tra il sistema pubblico e il sistema privato il vicepresidente in questo sta lavorando con molta attenzione c'è un sistema alla base che deve essere molto attento davvero a distinguere chi può accedere a delle cure permettendosi di pagarle e chi invece ha bisogno di essere tutelato come ricordava il collega Casalino il fatto di essere vicino alle fasce della società che vivono delle difficoltà come l'assenza di un lavoro anche se pur temporane giustamente però senza altro è oggetto di analisi che stiamo valutando come stiamo valutando anche le prestazioni che i medici offrono perché oggi noi abbiamo delle situazioni davvero quasi privilegiate di medici che prendono delle indennità non curandosi delle prestazioni che fanno e allora dobbiamo mi riferisco per esempio ai medici di base in altri paesi come in Israele il medico di base prende un minimo e prende il delta la differenza in base alle prestazioni effettivamente erogate questo significa che il medico quando viene chiamato da una famiglia quando viene chiamato non dice che è stanco che non può che è in ritardo perché prende il suo stipendio quindi cambiare un sistema a favore dei cittadini questo è importante Claudio Pedrazzini Forza Italia Regione Lombardia insieme a Eugenio Casalino Movimento 5 Stelle grazie per essere stati con noi grazie a voi grazie a entrambi devo chiudere al volo quindi la linea passa a Marco Garavelli appuntamento con Laura Costa domani sera alle 18 grazie a tutti